Una didattica della musica all'avanguardia nel mondo, sviluppata in 37 anni di attività e pubblicata in quattro lingue su 80 libri di testo. Per tutte le età e tutti i livelli di studio, dai principianti ai professionisti. 70 scuole lizard in Italia e nuove sedi in Cina, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti. Lizard è un'eccellenza italiana attestata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Cerca la scuola Lizard più vicina a te e chiedi tutte le informazioni che vuoi. Perché solo tu sai qual è la musica che ami e solo tu conosci l'obiettivo che vuoi raggiungere con la musica. Se i sogni sono tuoi, scegli la scuola dei tuoi sogni. Grazie per la visione!